Siamo ormai alla vigilia di un nuovo peggioramento determinato dall'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che nel corso della giornata di domani, a partire dal tardo pomeriggio sera, inizierà a interessare il nostro territorio. Le prime precipitazioni si verificheranno in serata, ma con fenomeni che via via risulteranno diffusi e di moderata intensità nel corso della nottata e nelle prime ore di domenica. Proprio le correnti occidentali favoriranno maggiori fenomeni proprio a ridosso dell'area penninica, dove gli accumuli precipitativi potranno variare tra i 20 e i 50-60 mm. Non si tratterà di precipitazioni estremamente intense, ma proprio anche per la criticità idrogeologica che si sono verificate nel corso degli ultimi peggioramenti, consiglio di monitorare la situazione anche perché localmente proprio l'orografia del territorio e la conformazione del sistema penninico che andrà a impattare e a fungere un po' da barriera rispetto alle correnti occidentali con cui si muoveranno questi corpi nuvolosi, potranno localmente accentuare, un po' come è capitato durante l'ultimo evento, accentuare localmente la fenomenologia e quindi le precipitazioni. Tuttavia il peggioramento non sarà molto duraturo, infatti poi nel corso della giornata di domenica i maggiori fenomeni e le maggiori precipitazioni si sposteranno sui settori centro-meridionali della regione, quindi diciamo che l'area pesarese e anche in parte l'anconetano vedranno poi un'attenuazione anche se temporanea dei fenomeni proprio nel corso della mattinata di domenica. Poi lunedì arriveranno nuove precipitazioni ma si tratterà comunque di un'instabilità sparsa che non darà luogo ad accumuli particolarmente ingenti.